Ben trovati con l'informazione a cura di meteocalabria.net. Ci avviamo verso un fine settimana dominato dall'anticiclone nordafricano, con tempo quindi stabile e tanto caldo. Venerdì Qualche nuvola sul Tirreno nell'interno, sereno sul medio-alto Ionio. Temperature diurne alte, superiori ai 35 gradi nell'area interna di pianura. Venti deboli o a tratti moderati, dei quadranti nord-occidentali sul Tirreno da nord-est sullo Ionio. Mari tutti poco mossi. Condizioni improntate al forte caldo oppure per sabato 10 agosto, quando la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi di 39-40 gradi nella località di pianura più interna, specie quella del Cosentino. Mari poco mossi. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento.